Dopo 20 anni torna il premio nazionale poesia di Bacchereto che nel 1991 è stato vinto da Alda Merini con la poesia alle madri. L'ultima edizione organizzata dalla polisportiva Bacchereto risale al 1999. Crediamo fermamente nel valore della poesia, adesso come non mai in questo momento, e quindi pensare di poter ridare lustro e di rilanciare l'arte poetica in un momento come ora, dove la parola perde il significato, ci è sembrato significativo e quindi abbiamo investito risorse, tempo e energie. Il bando è già stato pubblicato e c'è tempo fino al 9 maggio per presentare le poesie, che saranno giudicate da una commissione qualificata. Partecipare è semplicissimo, basta riempire il formulario che è allegato al bando, inviare tre lavorati o due o uno come uno desidera, il concorso è assolutamente gratuito, quindi la partecipazione è libera. Nelle ultime edizioni sono stati esaminati oltre 2.000 elaborati, scritti da poeti provenienti da tutta Italia. I premiati saranno 5, al primo classificato sarà consegnato un assegno da 1.000 euro, prevista anche la menzione speciale. Le premiazioni si terranno per metà ottobre, mentre il 21 marzo, giorno della nascita della Merini e giornata internazionale della poesia, verrà pubblicato il testo di Le Madri.